L'estate era alle porte a Gerusalemme, come ogni giorno stavamo insieme. All'improvviso dal cielo un vento soffiò, riempì la casa e i nostri cuori. Quel giorno gente di tutto il mondo era lì e tutti quanti ci comprendevano. In ogni lingua parlammo di Dio e di Gesù, lo spirito era tra noi. Noi saremo testimoni suoi, scelti da Gesù per raccontare che lui, ci ama e sempre qui e non ci abbandona mai, fino ai confini del mondo con noi. Così nascevano le prime comunità, tutti seguivano le sue parole, pregavano con gioia e lo ringraziavano e tutti insieme spezzavano il pane. Condividevano ogni cosa che avevano, con cuore lieto e con semplicità. Così ogni giorno tanti altri credevano in lui e raccontavano che... Noi saremo testimoni suoi, scelti da Gesù per raccontare che lui, ci ama e sempre qui e non ci abbandona mai, fino ai confini del mondo con noi. Voi sarete testimoni suoi, scelti da Gesù per raccontare che lui, ci ama e sempre qui e non ci abbandona mai, fino ai confini del mondo con voi.